Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ho perso la scommessa venerdì scorso nel video che vi avevo fatto dove parlavo di tutto quello che è stato il crash delle borse dei mercati old ho perso il video ragazzi perché tutti quelli che sono arrivati alla fine hanno sentito il mio messaggio gli ultimi secondi e mi hanno messo il mi piace abbiamo sfondato i 300 mi piace anche di più ragazzi e quindi mi tocca fare questo video oggi vi avevo promesso di fare una bella cosa di andare a prendere quello che era un titolo della economia old farci un'analisi anche perché si è vero che stiamo guardando un po' tutte le vicissitudini inerenti alla problematica sanitaria diciamo globale ed è vero anche che insomma la situazione è sicuramente un po' d'allerta anche per tutto il mondo in generale però è anche vero che dobbiamo andare a guardare come ha reagito la borsa in questi giorni per esempio domandandoci una cosa è stato un eccesso o non è un eccesso sulla risposta a questa domanda ragazzi ho in serbo una mia idea che vi dirò alla fine del video dopo aver guardato un grafico oggi andiamo a fare una cosa estremamente interessante secondo me per quelli che sono gli aspetti per comprendere come il mercato sta reagendo a questo momento storico particolare magari ce lo ricorderemo fra un po' di mesi sperando dimenticandoci di questo problema e andiamo a guardare il grafico della più importante borsa che in questo momento rispecchia quello che secondo me è il mercato generale quindi l'SP500 la borsa americana anche perché ragazzi qualcuno di voi mi ha detto perché invece di prendere un titolo singolo andiamo a prendere un indice quindi ho voluto darvi un ascolto mi avete scritto questa cosa all'interno di un commento e quindi ho voluto darvi un ascolto secondo me in effetti è più giusto andare ad analizzare un grafico di un future come l'SP500 perché rappresenta di più l'economia del singolo titolo ragazzi che invece poteva essere magari una metà sparsa benché ragazzi non vi nascondo che io ho alcuni titoli sotto il mio ladder li ho già da un po' perché mi avevo detto nel video di venerdì io sono flat sui mercati sto cercando le occasioni d'acquisto già da qualche mese non ne trovavo quindi ero flat totalmente perciò non vi nascondo che se ho tirato a dare qualcosa è finito magari poi se insomma ci sarà un modo lo faremo anzi facciamo così ragazzi allora io ho tre titoli che sono vi rifaccio una scommessa anche oggi di nuovo ragazzi però vediamo questa volta la facciamo grossa perché lo dico all'inizio del video 400 mi piace non so se ci riusciamo se questo video prenderà 400 mi piace ragazzi allora andiamo a vedere le tre azioni le tre stocks dell'economia old che io preferisco in questo momento che sono sotto i miei radar ragazzi questo vi tocca adesso mettere mi piace vabbè allora andiamo sul grafico dell'esp 500 in questo video analizziamo quella che è la situazione ciclica dell'indice ragazzi sarà una cosa bellissima da farvi vedere quindi antenne dirizzate e state attentissimi e poi andiamo alla fine del video a tirare su le conclusioni per capire se questo momento di crescita del mercato effettivamente è uguale agli altri o no e tirerò su un po' di idee e un po' di conclusioni ragazzi bene vi ho detto quello che vi dovevo dire all'ultima cosa iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto va bene ok ragazzi allora andiamo mi metto gli occhiali come sempre da mia diciamo tendenza di analista abbiamo davanti un grafico che non è quello di bitcoin ragazzi perché ricordatevi che io faccio analisi su tutto so farò soltanto sui mercati delle cripto allora questo è il grafico del future dell'esp 500 ritardo di pochi minuti rispetto alla sua quotazione attuale preso il future perché in questo momento è ancora è già aperto e oggi sta facendo un bel rimbalzo grafico di natura settimanale ragazzi vedete già dei disegni che sono le tempistiche i tempi vi dirò cosa sono tra pochissimo ma andiamo in ordine prima cosa andiamo a vedere rsi e macd che in questo caso io utilizzo per alcune per guardare appunto la fase del momentum del mercato li utilizzo soprattutto come indicatori di conferma utilizzo molto di più le rsi devo essere sincero ragazzi però ci sono tutte e due quindi li andiamo a vedere e poi facciamo alcune riflessioni di natura tecnica analisi tecnica e poi la ciclica allora il macd ragazzi dopo la super fase di alzista vedete che era iniziata diciamo sulla ecco vediamo ve lo ingrandisco appunto che era iniziata vedete qui in aria febbraio del 2019 guarda caso esattamente vicino diciamo a questa età a questo tempo un anno fa allora andate a guardare quello che è questa fase qui vedete il macd era scarico moltissimo ragazzi questi sono grafici di natura settimanale non daily quindi non sono molto volatili ok ragazzi ogni candela è una settimana quindi sono comunque grafici abbastanza stabili vedete che anche qui siamo già in questa fase ma il macd è estremamente lontano da questo tipo di atteggiamento quindi siamo molto lontani da questa fase di iper venduto che c'era in questo momento storico lo scorso anno a febbraio vi dirò anche perché quando analizzeremo la fase ciclica andiamo invece a vedere l'RSI anche questo ragazzi ci dà un'informazione abbastanza importante questo RSI ragazzi è un po' modificato è a 33 settimane ok allora anche questo ci dà una informazione abbastanza evidente a me quello che interessa relativamente all'RSI in questo caso ragazzi non è se vai in ipercomprato o ipervenduto ma è la sua forma perché vado a vedere la fase ciclica e l'RSI mi sta indicando che qui è finito un ciclo ragazzi o sta terminando un ciclo perché guardate un po' la sua forma classica ad M M di Mauro ok come me però sono le classiche forme di cicli ragazzi allora io l'RSI in questo caso lo uso più per un'analisi di natura ciclica per mostrarmi quando un ciclo sta per terminare piuttosto che guardare l'ipercomprato e ipervenduto infatti non me ne interesso minimamente di questo ipercomprato e ipervenduto andiamo a vedere i discorsi tecnici invece questo livello che è stato toccato direttamente nella settimana del 24 ragazzi quello che è successo nella settimana del 24 cioè il passaggio guardate qui ragazzi il passaggio da una vedete qui dal massimo di 3300 al minimo di 2800 ragazzi 500 punti per quanto riguarda l'SP500 sono quasi quasi il 20% insomma è stato ribasso notevole ragazzi ok meno 1163 soltanto in una settimana e poi nella precedente aveva fatto anche qualcosina di perdita poi ha continuato anche in questa fase poi ovviamente ha fatto un minimo più basso insomma siamo vicini al 20% ragazzi di oscillazione tutto in una settimana questo non è bitcoin ragazzi questi sono i mercati old badate bene che i mercati old soprattutto negli ultimi anni sono molto propensi a fare questo tipo di atteggiamento e questo è dovuto a una questione di natura tecnologica per via dei sistemi di trading che ci sono e del fatto che molti stop loss scattano tutti insieme ragazzi queste cose io ne ho già parlato tanto tempo fa aspettatevere sempre di più nel mercato perché è legato a una struttura tecnologica che è stata modificata insomma quindi flash crash non ci spaventano diciamo che sono abbastanza normali e allora questo flash crash ragazzi è andato a impattarsi su uno dei livelli più importanti che esistono cioè 2009 2008 80 insomma questo qui ragazzi questo è il livello più importante in questo momento facciamo una cosa di cambiamo colore mettiamo bluet e aumentiamo gli anche lo lo spessore diciamo della della linea ok in modo da farlo più importante vedi questo livello era il precedente massimo che aveva tenuto il mercato sotto soggiogato il sp500 nel gennaio 2018 ragazzi e nel settembre 2018 soltanto poi in maniera consistente a settembre 2019 il mercato settembre luglio insomma questa estate l'estate scorso scusate il mercato ha rotto questo livello di esistenza ed è iniziato questa fase rialzista badate bene che rispetto ai precedenti rialzi vedete un po questa fase è stata poco pronunciata quindi già questo ci fa capire anche che il mercato comunque di per sé è ovviamente tirato ragazzi da un punto di vista di analisi tecnica al di sotto abbiamo altre aree di supporto sono distantissimi ragazzi quasi un 10 per cento vedete questa è una fascia di oscillazione una fascia di supporto molto importante questa qui per essere precisi vedete una fascia di supporto molto importante che il mercato potrebbe fare ma anche questa ovviamente solo se rompe questo supporto 9.000 a 2009 va sotto a quel punto insomma potrebbe stazionare qui dentro però non è detto che questo supporto non regga ragazzi ok questo dal punto di vista di analisi di analisi tecnica per quanto riguarda l'SP500 ma andiamo dolcessi in fondo a guardare quello che ritengo la cosa più interessante di questo video ragazzi la fase ciclica allora quello che vedete qui sono tutti i cicli dell'SP500 dal febbraio del 2009 il famoso minimo toccato in questa candela del 2 marzo ragazzi fine febbraio vedete 2 marzo la settimana del 2009 da cui il mercato ha iniziato questa super fase long quindi la più grande bull il più grande bull market della storia del mondo e tutti ragazzi questi cicli sono cicli annuali guardate in maniera abbastanza evidente come il mercato fa questi cicli costantemente vedete in alcuni punti per esempio nelle fasi di alciste si vede di meno la parte ribassista perché il mercato è molto molto forte e in questo è abbastanza normale poi sono settimane ragazzi ve lo ricordo quindi sono ribassi settimanali allora guardate intanto come nell'anno 2019 si sia chiuso intanto un ciclo estremamente più importante degli altri perché è stato uno dei bassi peggiori questo lo scorso anno e adesso di nuovo siamo qui in questa nuova situazione dove il ribasso è ulteriormente molto più accentuato di quello che dovrebbe essere in questa fase perché in questi cicli annuali sono tutti più o meno da 300 a 400 giorni quindi cicli annuali classici più o meno intorno ai 400 giorni ragazzi tranne quelli corti tipo questo che era estremamente ribassista quindi ha accorciato però ci sono due diciamo due fasi recessive chiamiamole così che sono importanti una è questa qui questa vedete dello scorso anno quella del 2018 che poi ha chiuso più o meno a fine 2018 e poi questa qui ragazzi vedete anche quella del 2016 che ha chiuso nel gennaio 2016 però questo è particolarmente rilevante ora dove siamo ragazzi guardate un po di nuovo nella settimana del 427 giorno io in effetti vi dico un trucchetto insomma io sono anni che faccio una bella cosa ogni anno aspetto gennaio per aspettare l'uscita dei fondi insomma dalle loro stocks che insomma i fondi si sa ragazzi fanno un bull verso dicembre c'è un po di inefficienza su queste cose poi a gennaio rimpassano tutto il loro portafoglio e spesso e volentieri causano queste fasi di bassiste e io aspetto puntualmente come un diciamo inattesa sto lì a guardare gennaio per fare i miei acquisti quest'anno non riuscivo ve l'ho detto perché il mercato non scendeva tac è arrivato il problema del sanitario e ha causato il nostro ribasso vabbè a parte questo questa fase è una chiusura ciclica di un ciclo annuale ragazzi però è anche da dire una cosa questo ciclo che sta andando a chiudere penso che l'abbia chiuso non lo so ragazzi poi si vedrà però in realtà il ribasso è stato notevole quindi se così non fosse aspettiamoci magari un po' di tempo a livello tempistico 61 settimane sono parecchie io mi aspetterei una fase di ripresa del mercato hold ma il problema sarà esattamente capire se questa ripresa ha le possibilità o meno di avere una fase diciamo importante di ripresa o no quello è il problema che dobbiamo dobbiamo andare a guardare quindi a oggi il mercato è entrato in una fase di stand by per quanto riguarda il mercato hold stand by non siamo in una fase di ribasso non siamo neanche in una fase di inversione di trend di medio periodo ragazzi perché il trend e lo vedete benissimo è rimasto long ok questo è il trend anche dell'ultimo anno quindi non lunghissimo quindi un trend di medio periodo nel mercato hold questo è medio periodo un anno e siamo ancora in fase long sui mercati però innegabile questa problematica di vedere intanto una cosa ciclica così importante rispetto a quello che si ci aspettava dopo questa fase di bassista che indicava un ciclo superiore insomma andiamo poi a fare delle analisi eccessive e insomma qui non si aspettava una fase così profonda però però ragazzi non disperiamo ci sono state delle cose che bisogna andare a controllare intanto probabilmente inizierà un nuovo ciclo annuale vedremo io lo seguirò attentamente perché vi ripeto devo fare gli acquisti e lo seguirò attentamente vedremo un po' al momento non mi sono mosso perché la situazione è ancora estremamente critica se dovessi analizzare il mercato anche in questa settimana di ripresa vi direi che questa settimana nonostante anche la giornata di oggi è estremamente negativa perché il mercato ha fatto un classico rimbalzo del gatto morto perché è rimbalzato è andato a toccare le medie mobili che adesso faranno questo cross al ribasso ma non ha ripreso fiato anzi ha fatto questa shadow la vedete questa shadow estremamente pronunciata che è negativa ragazzi sui mercati hold questa è una shadow negativa oggi sta rimbalzando vedremo perché se finirà la settimana già sui massimi allora sarà una settimana di ripresa ma se il mercato chiude sotto per esempio già i 3.000 dollari sotto i 3.000 punti scusate è molto 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 pericoloso per l'SP500 quindi attenzionare stiamo allerta guardiamo i grafici è tutto quello che è e poi decidiamo il da farsi allora ragazzi è possibile la ripresa dei mercati azionari nei prossimi mesi sì perché vedete c'è un ciclo nuovo annuale e poi guardate qui cosa c'è anche ve lo metto come linea verticale qui in questo punto ragazzi c'è l'elezione del presidente americano quindi è possibilissimo assistere anche a una stazionalità dei mercati magari una cosa del genere fino a qui e poi la chiusura magari di un ciclo annuale questo sarebbe assolutamente assolutamente normale così che il presidente americano può dire che è stata fatta una economia che ha raggiunto i massimi sotto il suo mandato che in effetti è così poi bisogna vedere dove come quando avete visto anche l'intervento della federal reserve estremamente veloce e qui torniamo a noi insomma alle conclusioni finali del video allora da un punto di vista di grafico vi ho detto tutto quello che penso in questa fase c'è da stare attenti in versioni trend non ce ne sono ancora però ragazzi se il mercato non riesce a superare questi massimi entrerà in barra di congestione quindi anche qui andare a fare investimenti di lungo periodo è estremamente pericoloso bisogna capire questo tipo di discorsi si potrebbe optare per altre cose ad esempio come investimenti sui dividendi per un anno questo non è male anche questo trucchettino insomma magari se raggiungiamo i 400 mi piace vi parlo anche di questa cosa allora conclusione finale di questo video questa crisi è uguale a quella delle altre e no no non è una crisi uguale a quella delle altre perché qui c'è una causa scatenante che non è un panico non è una paura immotivata e vi spiego perché la paura relativa al problema magari sanitario potrebbe essere anche esagerata da che molti dicono che l'hanno fatto apposta anche per diminuire i contagi perché appunto mettendo paura tante persone sono più accorte si lavano le mani insomma stanno molto più attenti e questo potrebbe starci però da un punto di vista economico strettamente economico ragazzi questa crisi ha bloccato l'apparato produttivo e l'ha fatto veramente quindi è inutile ed è innegabile quello che è successo in Cina ha bloccato mezza nazione che c'è un problema relativo magari anche all'acquisto di prodotti cinesi moltissimi stanno mettendo in stand by stanno andando in crisi i sistemi distributivi di Amazon in Italia sta facendo un disastro sul nostro paese e che non riusciamo neanche a calcolare l'entità dei danni di natura economica cioè di produzione che noi avremo quest'anno a causa di questo problema quindi questa cosa ragazzi è innegabile perciò rispetto alle precedenti crisi che erano crisi di panico dovute magari al problema del trade war con la Cina o al problema di un altro tipo di discorsi magari politici problema della guerra i soliti problemi insomma che sono più ansie del mercato piuttosto che realtà qui il mercato ragazzi sta scontando un rallentamento produttivo rallentamento produttivo ragazzi che è stato bollato come praticamente matematico dalla Federal Reserve ieri che con il ribasso dei 0.5 di mezzo punto ragazzi dei tassi di sconto ha palesemente detto siamo in grave pericolo per la struttura produttiva del paese dell'economia in generale quindi anche la Federal Reserve lo sa questo tant'è però che è intervenuta ora questo guantone questo diciamo cuscino enorme che la Federal Reserve ha costruito servirà probabilmente sì speriamo tutti quanti questa situazione di panico generalizzato ti blocco l'economia quanto tempo durerà è qui la chiave per capire se questa crisi che noi abbiamo visto continuerà o meno nei prossimi mesi oppure il mercato si fermerà probabilmente il mercato farà questo si fermerà in questi giorni dopo questi alti e bassi e deciderà poi man mano guardando i dati economici dell'economia reale cioè prenderà tempo ragazzi perché non lo sa nessuno quello che sta succedendo in questi momenti bisognerà guardare le statistiche dei produzioni i primi dati i primi segnali con i vari indicatori di economia fondamentale del PIL e di quant'altro che avremo nei prossimi mesi ovviamente in questo momento è stata c'è stata una crisi enorme le banche sono intervenute hanno aumentato la liquidità sul mercato hanno tamponato quindi gli alzi che vedete oggi ragazzi sono frutto dei soldi messi delle banche centrali dentro l'economia dentro questo mercato è ovvio che si saliva ci mancherebbe insomma questo qui con tutti i miliardi che hanno immesso va bene ragazzi allora vi ho dato la mia opinione mi serve la vostra allora scrivetemelo nei messaggi scrivetelo nei commenti di questo video cosa pensate vi piace questa view ciclica vi piace seguire questo mercato anche dal punto di vista ciclico fatemelo sapere io ho fatto un video come sempre lungo ragazzi ma vi ringrazio e ci vediamo venerdì con tutti i nuovi aggiornamenti ciao